Grazie Presidente. Ho votato a favore del rapporto sull'economia blu in Europa. Siamo riusciti ad inserire, grazie ai nostri emendamenti, delle tutele effettive dell'ambiente marino, tra cui la necessità di vietare le attività industriali estrative e dannose per l'ambiente, incluse le trivelle, nelle aree marine protette. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere il testo originale, con cui per la prima volta il Parlamento chiedeva di vietare la pesca a strascico nelle aree marine protette. Sono comunque felice che questo rapporto sottolinei l'importanza della piccola pesca costiera, riconoscendo la necessità di duterare il segmento e promuoverne lo sviluppo, anche attraverso l'assegnazione di una fetta più ampia delle possibilità di pesca. Il testo insiste sulla garanzia di cognizioni di lavoro dignitose, sicurezza sociale e rappresentanza nelle organizzazioni e nei processi decisionali. Il testo inoltre riconosce il ruolo delle donne nella pesca e nell'acquacultura, ma è necessario aumentare la visibilità, assicurare la parità di accesso all'occupazione. Il report è sicuramente quindi un passo avanti verso un'economia blu, sostenibile ed inclusiva.